ok adesso ci fanno montare i pezzi 42 l che vanno messi qui 1 2 3 e 4 1 2 3 4 e 5 esatto sono cinque pezzi andiamo a vedere se sono in questa bustina cazzo come di che è partuta la luce verde ok ragazzi adesso ci fanno mettere questo pezzettino qui lo dobbiamo incollare qua lo andiamo a mettere ok 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 Perfetto Perfettissimo Ok adesso andiamo a prendere I cinque Pezzi che dobbiamo mettere Che sono Questi qua E li mettiamo ovviamente Con la punta Riverso Ecco qua Ho messo il primo Ecco qua Ho messo il secondo Ecco qua Ho messo il terzo Il quarto E il quinto Ragazzi Ecco qua Messi Tutti quanti Adesso andiamo a vedere Cosa ci fanno montare Cosa ci fanno Questa ci fanno Grazie a tutti.